Sebastiano Marcarini è un volto noto a Cremona, non soltanto per la sua attività, titolare dell'Emporio Vini e Sapori di Via Milano, ma per la sua conoscenza e passione per il caffè, tanto da essere per tutti il re del caffè. E non chiamatela solo tazzina, perché in ogni espresso c'è una storia, una provenienza e una speciale coltivazione. E Marcarini racconta anche che cosa sta dietro il cosiddetto carotazzina, che ha visto aumentare il prezzo del caffè in quasi tutti i bar. Allora, il motivo del carotazzina sicuramente è legato, forse per chi non ha ancora capito, a effetti climatici che ci sono stati in Brasile e Colombia. Parliamo di siccità, parliamo di improvvise forti piogge, parliamo di raccolti purtroppo rovinati. Questo ha anche dovuto invece ad un'influenza grandissima di surriscaldamento in Vietnam, che sono i primi paesi coltivatori di Robusta, che lì hanno iniziato a destabilizzare un po' il mercato, perché hanno avuto dei grossi problemi, essendo loro i primi produttori di Robusta, come in Brasile sono i primi produttori di Arabica. Da qui, comprendendo anche la problematica dei trasporti, del canale di Suez, delle varie guerre che ci sono in atto, e di vari costi di trasporto, ci sarà questo innalzamento purtroppo della tazzina di caffè non dovuta naturalmente a un guadagno, perché non voglio che si capisca così, del bar, ma è dovuta all'inalzamento del prezzo proprio all'origine del caffè in piantagione e della lavorazione del caffè.